Sì, buon pomeriggio, siamo proprio con Michele Dell'Orco, vice capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Intanto il Parlamento è ancora chiuso, però il 26 si parla di unioni civili. Intanto sosterrete questo DDL presentato dalla senatrice Cirinà del Partito Democratico. Cosa ne pensate dell'opzione, dell'affidora forzata al posto della stepchild adoption? Se ne discute proprio in questi giorni. Sulle unioni civili il Movimento 5 Stelle voterà a favore. Non ci interessano le polemiche che abbiamo sentito in questi giorni tra destra e sinistra, più che altro per dare ancora una parvenza di differenza tra l'uno e l'altro. Se il testo Cirinà rimarrà così com'è, noi voteremo a favore. Per quanto riguarda stepchild adoption, in realtà non si tratta di adozioni, ma solo di stepchild, perché si tratta di dare in affidamento il figlio naturale del padre, anche estenderlo al partner. Quindi se il testo rimarrà così e non verrà insabbiato, anacquato, come accade per il 90% delle leggi, noi voteremo a favore. Quindi si profila un voto congiunto con il PD, diciamo sul modello della consulta, però intanto continuano gli attacchi da parte del partito di Renzi sulla vicenda di quarto. Il comune amministrato dal Movimento 5 Stelle, in base ad alcune intercettazioni, pare che siano confluiti dei voti camorristici verso i vostri candidati. Come rispondete al PD e su questa situazione? Allora, volta per volta noi votiamo le leggi, se sono buone le votiamo a favore, come abbiamo fatto in altri casi sulla consulta, noi non abbiamo alcun problema. Per quanto riguarda il caso su quarto, vorrei proprio mettere un laccento sul tema, perché ha dimostrato la differenza tra noi e gli altri. C'è stata un'indagine che è partita verso un consigliere comunale a quarto, a Napoli, e noi abbiamo espulso questo consigliere, su cui c'erano delle ombre, c'erano difformità, anche rispetto al programma del Movimento 5 Stelle, già espulso il 14 dicembre. Quindi ben prima che addirittura partissero le indagini arrivasse la magistratura. Mentre il PD continua a mantenere presidente della regione Campania, un condannato in primo grado, noi spegliamo in anticipo ancora prima che arrivino le indagini della magistratura. Questa vuol dire fare pulizia a 5 Stelle. Quindi noi siamo attualmente parte lese, il sindaco di quarto è parte lese, e noi continueremo a combattere questa campagna a favore della legalità e contro queste infiltrazioni mafiose che sono diffuse in tutta Italia. E fa ridere che il Partito Democratico ci attacchi su questo tema, quando proprio stamattina è stato condannato a due anni l'ex assessore della Giunta Marino di Roma per mafia capitale. Quindi è veramente patetico questo tipo di attacchi dal PD. Sulle amministrative, il PD che attende le primarie per decidere i candidati, il centrodestra sembra attendere proprio le primarie del PD prima di esporre i propri candidati. Come va invece nel Movimento 5 Stelle? A che punto siete con i candidati? Noi a Milano, Torino e Bologna abbiamo già individuato i candidati. Presto li avremo anche a Napoli e Roma dove faremo delle consultazioni online, faremo decidere ai cittadini come sempre abbiamo fatto, il programma è chiaro, e andremo avanti per conquistare finalmente una grande città e per dimostrare quanto siamo in grado di governare. Dati istat sulla disoccupazione, i minimi da tre anni, esulta Matteo Renzi, dice in merito del JobSec, voi date una lettura diversa. Sì, Renzi esulta sempre, anche quando i risultati non ci sono. Col JobAct, oltre ad aver distrutto l'articolo 18, ha aumentato tra virgolette l'occupati, rendendo più facili licenziamenti. Se si licenziano più persone, così forse si creano nuovi posti di lavoro. Per noi, per risolvere il problema della disoccupazione di milioni e milioni di italiani che sono tuttora disoccupati nonostante le parole di Renzi, serve immediatamente un reddito di cittadinanza, una manovra economica da oltre 16 miliardi come c'è ormai in tutta Europa. Manca solo in Italia e in Grecia. Ringraziamo Michele Dell'Orco per essere stato con noi lì nello studio.